Benvenuti a WISP Magazine, un'altra puntata ricca di notizie, di attività WISP, di immagini molto belle. In studio c'è Sara Baldizzone, bentornata Sara. Ciao Maria, grazie, buongiorno a tutti. Comunicazione WISP e anche Lega Pallavolo. Abbiamo oggi il piacere di ospitare un maestro di arti marziali e quindi discipline orientali, judo, direzione nazionale di queste aree e discipline orientali, che è Pino Tesini. Benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie e benvenuto. Allora, vediamo subito proprio delle immagini che riguardano le discipline orientali, perché ci sarà il primo appuntamento domenica prossima al palazzetto di Manesseno di Sant'Olcede con l'attività giovanile di judo. Maestro Tesini, che cosa significa il judo intanto per i ragazzi, questo aspetto dei giovani? Allora, diciamo che cosa rappresenta il judo per la WISP, il judo nell'area di discipline orientali. Noi nell'area di discipline orientali pratichiamo il judo, pratichiamo le nostre discipline, tutte con una finalità educativa e sociale, prima di tutto. Non è la nostra mission quella di privilegiare l'attività agonistica, di conseguenza anche la nostra attività agonistica si svolge sempre in maniera molto educativa e sociale. Questa è la premessa. Poi, logicamente, quando si compete tutti vogliono vincere, ma per noi è più importante come si vince che vincere comunque. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Stiamo vedendo queste immagini dell'anno scorso, un trofeo giovanile. Quanti anni hanno questi ragazzini? Questi vanno dai sei anni agli undici, dodici. Si comincia a questa età, si comincia intorno ai sei anni? Sì, però, come dire, noi, proprio per il motivo che dicevo prima, facciamo un'attività molto soft, molto educativa. I ragazzi hanno dei limiti proprio tecnici che rendono anche la competizione educata, nel senso non vincere comunque, ma vincere solamente se la tecnica è fatta bene. Gli arbitri sono tutti maestri che arbitrano, arbitri nazionali che arbitrano. Per cui, insomma, voglio dire, c'è proprio questa impostazione. Ho visto che ci sono anche delle bambine, sono poco numerose, perché evidentemente è una disciplina che prende sempre più nei maschi, magari poi ci torniamo. No, no, ci sono anche tante femmine. Sara, allora, invece con te parliamo del concorso Cataclò. Lasciamo per il momento queste immagini, poi torneremo anche a vedere il jiu-jitsu e andiamo al concorso bellissimo, le coreografie Cataclò, l'abbiamo presentata la settimana scorsa. Allora, com'è andata? È andata, direi, benissimo. È stata davvero una giornata di sport per tutti. Domenica 1 dicembre, vediamo le immagini, al palazzetto di Sant'Eusebio, c'è stata la tappa Ligure del progetto PLK Experience. studiato dalla Lega delle Ginnastiche Nazionali, proprio in collaborazione con l'Accademia famosissima di Milano Cataclò della coreografa Giulia Staccioli. Qui vediamo l'esibizione della compagnia allievi, dei giovani di Cataclò, perché praticamente la giornata si è svolta così. Prima ci sono state le esibizioni delle nostre scuole, delle nostre associazioni e al termine delle esibizioni delle scuole, delle nostre coreografie, c'è stato il PLK Show, ovvero proprio lo spettacolo dell'Accademia di Giulia Staccioli. È stato davvero uno spettacolo bellissimo, perché come si vede nelle immagini, la loro è una rappresentazione molto particolare. Riesce a fondere insieme danza, teatro e ginnastica. Ed è stata una giornata importante per le nostre associazioni, che non sono mancate, perché non solo hanno avuto la possibilità di esibirsi di fronte a Giulia Staccioli, inquadrata in questo momento, e al direttore artistico Paolo Benedetti, ma hanno anche avuto la possibilità di un confronto diretto con la coreografa, perché al termine poi delle esibizioni e in occasione delle premiazioni, Giulia si è proprio fermata. Giulia e Paolo si sono fermati con gli insegnanti, con i coreografi, dando scuola per scuola, quindi coreografia per coreografia, consigli di natura artistica, scenografica, musicale, eccetera. Poi, vabbè, nello specifico per la cronaca, le due associazioni che hanno conquistato l'accesso alla fase finale di questo PLK XP ne sono state la Teiese con Catena Cinematica, con la coreografia Catena Cinematica, e il gruppo sportivo San Michele con le Alveare. Queste 20 ragazze che appunto sono state scelte da Giulia e da Paolo parteciperanno poi alla fase finale, che si disputerà poi a Rimini nel 2014 in occasione del Festival del Sole. Qui vediamo Rita Scalambra, la Presidente della Lega Nazionale, che è stata presente per tutta la durata della manifestazione, così come Tiziano Pesce, il Presidente regionale, e qui proprio vediamo poi anche la consegna degli attestati di partecipazione a tutte le associazioni. Inquadrata Serena Mariotti, dietro di lei Elisa Profumo, staff della Lega Danza e della Lega Ginnastica, anche loro presenti che hanno contribuito sicuramente all'ottima riuscita della giornata. Una bellissima manifestazione con coreografie, abbiamo visto, professionali. Sì, molto professionali e molto originali. Abbiamo visto quelle prima sugli sci particolarissime, quindi davvero bello e tantissimi spettatori erano presenti e non sono voluti mancare a questo nuovo appuntamento del Wisp. Complimenti, complimenti a tutti. Ora andiamo sul nostro sito, Telenord.it, la pagina sportiva, perché abbiamo caricato questa notizia che riguarda la pallavolo, Pallavolo, gioco in casa. Genovesi, Logikappa, giochi in casa, la Supercoppa nazionale del Wisp. Quindi difenderanno i colori Liguri, imminente pertenza. Sì, esatto. Questa è un'altra iniziativa della Lega Nazionale Pallavolo che proprio vuole coinvolgere i territoriali in manifestazioni che abbiano una valenza nazionale. Nello specifico la Supercoppa nazionale è stata pensata per le squadre vincitrici singoli campionati territoriali. L'OGK Pavoli, appunto detentrice del titolo dell'amatori misto nella stagione precedente, parteciperà domenica 15 dicembre a Sale, in provincia di Alessandria, al concentramento dell'area nord-ovest. Avversari di turno sono l'Arcadia Pallavolo di Torino e il Vigu Volley di Alessandria e la squadra vincitrice del triangolare si qualificherà poi alla seconda fase, quindi alla fase di semifinale e poi la finale della Supercoppa nazionale prevede una final ale, già in programma il 29 e 30 marzo a Carle, a cura della Lega Nazionale Pallavolo del Veneto. Diciamo che voglio ringraziare proprio qua in tv i ragazzi dell'OGK, quindi Paolo Marinacci e i suoi compagni perché ancora una volta hanno dimostrato attaccamento alla vita associativa adesione alle iniziative non solo del WISPE di Genova ma anche addirittura della Lega Nazionale. L'OGK, lo voglio ricordare, sono una di quelle squadre insieme a tante altre che partecipano ogni anno alle finali nazionali e poi direi, speriamo anche che possano magari passare questo concentramento così andare avanti. Un in bocca al lupo a Paolo e a tutti i suoi compagni. Seguiremo naturalmente passo passo le vicende. Torniamo al maestro Tesini e alle attività del Lado Associazione Discipline Orientali, Area Discipline Orientali. Allora, possiamo dare un panorama per il futuro? Vediamo anche forse immagini di Jiu Jitsu. Sì, l'area Discipline Orientali raccoglie un po' tutte le discipline cinesi, giapponesi, indiane, perché sono discipline che hanno in comune tutte l'uomo al centro, lo studio dell'energia e poi praticamente l'educazione attraverso la disciplina. Queste sono immagini del galà che facciamo ogni anno al Porto Antico, però la cosa fondamentale, come dicevo prima, è che noi lavoriamo proprio in funzione di quello che i ragazzi faranno, diventeranno da uomini. Poi, indipendentemente se diventeranno dei campioni o no, fermo restando che, come dire, se diventano dei campioni meglio per loro, voglio dire, ma non è detto che sia necessario partire da lì. Non c'è spazio per troppi campioni. È necessario invece lavorare con coerenza, essere presenti, dare degli obiettivi e fare in modo che i ragazzi imparino a socializzare, cosa che oggi i ragazzi non sono più capaci a fare, e soprattutto che imparino a collaborare, anche affrontandosi, ma poi il momento è quello di collaborazione. Perché anche nelle competizioni, il momento di competizione sono cinque minuti, poi tutto il resto lo passo in palestra a lavorare insieme, non a competere. C'è anche uno scarico di energia e anche un momento in cui scaricare eventuali tensioni. ora sono bambini, quindi si presume che siano ancora molto sereni. Però anche questo aspetto, ora intanto invece questo è l'aspetto meditativo, e c'è anche questo. No, questo è una disciplina cinese, il Kung Fu. È un po' più da adulti questa. Ecco, per i bambini c'è una cosa un po' più movimentata, ecco, diciamo. No, no, ma poi, come dire, la cosa importante è che i bambini imparino a collaborare, perché oggi vivono in momenti abbastanza individuali, non sono più abituati ad avere questo momento insieme agli altri, a collaborare, a fare delle cose, non giocano più così. Oggi giocano con i telefonini, con gli iPod, dove ognuno gioca per conto suo e non si parlano più, si mandano i messaggi. Invece imparare a collaborare. Guarda, io ho cominciato quest'anno un corso di bambini di 5-6 anni, qualcuno anche meno, e mi ci sono voluti due mesi per insegnarli a fare le cose insieme. Perché questo è, no, due mesi, tre, perché siamo a Natale, e cominciano adesso a lavorare insieme, che è la cosa più importante. Poi, come dire, dal punto di vista tecnico, ti puoi immaginare, a quell'età lì è un gioco, ma però imparare a stare assieme, a lavorare assieme, a aiutarsi l'un l'altro, questa è un'altra roba. Infatti, noi abbiamo... Abbiamo purtroppo poco tempo ancora, un minuto, e comunque invitiamo tutti, perché sono corsi davvero partecipati, ed educativi, e divertenti, perché poi i ragazzi, i ragazzini, si divertono molto a seguire queste discipline, oltre ad imparare a stare insieme, come dicevamo, lo spirito, la collaborazione. Prima di chiudere, Sara, diamo un'occhiata a quello che riguarda l'atletica, e la pallavolo, ci sono degli appuntamenti da segnalare. Esatto, con lo stesso spirito della socializzazione, a cui faceva riferimento Pino, sabato, atletica, al Cogoleto, il giorno delle staffette, che è il quarto appuntamento del circuito, l'atletica leggera, e domenica mattina a Doregina, la prima tappa del campionato di Under 16. Così come per il judo, e in generale per l'ISP, nessun spirito di competizione, ma solo voglia di stare insieme, giocare e divertirsi. Quindi, atletica, sabato, a Cogoleto, e pallavolo domenica mattina a Doregina. Sempre per ragazzini della fascia, dai 10 ai 15 anni, anche più piccoli. E domenica mattina a Manesseno, prima giornata. E domenica mattina a Manesseno. Manesseno prima giornata, quindi insomma, è un weekend, come sempre, molto ricco, quello che vi propone l'ISP, con tutte le notizie che trovate anche sul portale dell'ISP, sempre aggiornatissimo, le notizie anche sul sito telenord.it, con questo ringrazio Pino Tesini. Grazie. E complimenti per il lavoro che fa il seno a l'ISP, grazie ancora Sara Baldizzone. Come sempre, grazie a te Mare, grazie, buongiorno a tutti. Ci vediamo naturalmente con l'ISP Magazine la prossima settimana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.